Allora, io non capisco perché devo sempre essere in mezzo ai pazzi che cosa stiamo facendo Smutato c'è vincente che stanno facendo mao mao mia o mia o mia o Mi stanno offrendo 4.000 abiti faccia tutto o che ho faccio tutto per 4.000 abiti Secondo me diavano il manicomio Ma devo chiedere le frasi con biaubau Sì ma biaubau mia o però non è bau è il verso del cane Io non lo voglio fare per tutta la partita No Andiamo qua Mi raccomando ragazzi solidi di starter Il pasteccino abbaia Ehi mia o mia o mia o Non so dove devo andare perché siamo così deficienti mia o mia o Io non ce la posso fare così però mia o mia o mia o wow wow Ma che è wow wow è un cane che ha visto cose buone Che scena terribile raga Però possiamo peggiorare Aspetta che metto il cappello De 2005 500 vengono tornati in un altro giorno Sono di nino quindi Ce-si-si-si-si-si-se-se-i E-si-si-si-si-si-si-di-si-si-si-si-si-si-si O- diagnosis Sto scappando mio, mio posso allontanarmi mia o bia o non ho armi ragazzi per favore potete non trollare non abbiamo seguitari mia o ecco ci sono lasciando un mio non c'è problema mio mio posso scappare bobo ok ho scappato e tu no perché cazzo ragazzi se non c'è bisogno porco via c'è gente al pulino io ho due sbocciatori come si ragazze stanno facciando 25 ho fatto a me sa quel cosa attenzione bobo ma stiamo stiamo andando via ma siamo li vincenzo non possiamo rischiare di creparci ok mia o ma ho sicuro da me va un mio arrivo avete necessità la mia o bia 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 aspetta aspetta e spezzata tomm coisa boba bo tramite un bianco proprio prendiamo l'ultimo figlio di buttare un mio 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 mi ma perché dovete esagerare aiutare lo mio mio ragazzi basta che spammate dr cercate la kill è morto è morto è morto è morto molto bene mio mio è difficile vivere con suo fratello è una ragione perché era troppo difficile io spero che le persone interessate non guardino salutiamo gli sponsor che non guardano davanti c'è un medaglione mio mio davanti medaglione 35 doppio triplo quadruplo troppo troppo proprio ragazza la gamba 25 mi troppato mio mio porto dopo ho preso la chile mia mamma ha fatto con le belle mani mia mamma mia perché non parla è scusi mio mio si dice del giorno ma se la carezza ma le fusa mi hanno detto che spavano dietro porco mia o io vengo da voi vi ci pensate voi adesso c'è gente qua boh mia o alla cash ma no non so se stanno sopra qua ragazzi mi hanno detto 10 a 1 boh boh uno sta venendo domi ok mio mio eccolo quando noi mamma di spavano di queste ragazze 28 mi hanno distrutto bianco ancora abbiamo white white sotto la lecce del ron e baumiao no però comunque no 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 adesso scarzone ci sta volendo cremare troppo vincente troppo te lo troppo quanti sono ragazzi massimo altri due passi o uno scappo mio ok mio 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 cazzo è vincenzo la davanti al 73 mio mio ho ammazzato uno baumiao non so come baumiao bravo grazie sopra 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 e zio baumiao su caezio baumiao coglione a favore non piangere non era colpa mia baumiao se ti fumavi la maria davanti gente baumiao ma perché le puscia baumiao ma non lo so abbiamo perché mi sono preso bene proprio perché questo minchione sia rekinz e quindi vado a seguirlo baumiao mi scusi baumiao baumiao mia 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 ma io mi fa male l'orecchio se lo faccio a controllare da un veterinario boba ma che mi sembrava più propenso miau miau e ti vediamo in roma senza scilla e senza pompa malissimo mio mio molto male bambino sto arrivando ma arrivano arriva se incazzati bambino non sono scatti bambino mi ha trombato mi hanno trombato bambino mori effezione bambino e b che è distrutto ma morto è una morte bravo miau miau bravo bambino trombato bambino 2 ma un mio no non l'ho ucciso l'ho trovato un bambino che mi sta dando il tormento bambino non riesco a togliermelo non c'è mazza non c'è nulla bambino sono sotto due investito 1 pao pao data 5 aiuto provo a sbagliare da un mio mio difficile c'era bobao ma ho miau sta gente qua entro qua dentro con la macchina ma un mio non credo che tu c'è la faccia bobao dentro e me è fatto male ho fatto male fatto male con la rosa però una morte un'altra suotra suot entra e detto mio 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 mazzetto ma io non c'ho mai mai mi serve una cura o del cure un ragazzo di messi di me attenzione papa un morto è morto sono fine quale sarei subito se la quinta guarda che non un medaglione da un medaglione non mi da niente ma io ho il dolore di una prezzata stessando adesso siamo ancora siamo iniziali non tirando su isilio ma un tenete voi tenete voi sette secondi mio ma un 5 4 3 2 1 bobao sei salito spruzzo non facciamo la davia raga questo non deve restare per l'amore di gesù cristo venite venite andiamo io che figli di troia non è acqua bobao anche se medici a me mio mio qualcuno medaglione bambino da darmi chi c'ha un più un medaglio ragazze x 0 poi bobo ragazzi quello non deve restare bambino bambino ma non sapevo dove abbiamo abbiamo perché ci stanno bruciando loro bambino come il culo bambino l'hanno preso pure in quel posto bambino e certo molti prendo il porco prendiamo il porco bambino molto bene bambino e non ho preso il porco bambino ne ha preso ci provano a cechinare per ma uno a sinistra ragazzi bambino ragazzi ragazzi non avevo infiliato in quella cosa per favore bambino sono insieme bambino molto bene bobao le votano raga mio mio interesse quello vabbè non c'entra l'amore dagli altri mori dagli altri non pusciate bambino andiamo andiamo sotto da ciao zio tra bambino io pochissimi ma anche io bambino la ragazza prende qua grazie x 0 e bambino venite a me venite da me morto bambino morto e morto bambino passi da me passi da me vabbè andiamo 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 e dici cammini da bambino occhi lato uno qui sotto ragazze non so cazzo non sia andato però ma di quello qui siamo qui siamo per favore uno morto corco porco sono vivo e se potete venire ragazzi è morto io ma sono vivo cillo usciano in 14 qualcuno può venire mio mio no no non possiamo venire a texero sono anch'io morto sono due morti quanto del mio questo lì sopra morto mio ma io sto tranquillo non lo sa nessuno questioni in due vado a lettura che nessuno ci serve mi sta per finire mi ha finito io sono ancora vivo vince mio mio alberta aspetta aspetta e questo giochiamo insieme dove stai e si stavo vedendo sti due 30 di vita non è non si mette qui sotto poi non è niente mio vabbè abbiamo rifato abbiamo rifato va bene sì 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 ha fatto e chiudi non svel'è ff non riesco che solo io ci sono io su wangzwandi è uscita qua qualcuno un medici no ok via la qualità abbauen medico io mi serve bello bobo si rose anche lei è un big si bobo faccia faccia molto bene mio subito è andiamo subito andiamo subito non facciamo i fai bene o come si avessero cosa sulle quante materiale i bau 100 100 400 bobo andiamo sopra sopra attenti anche dietro rotto proprio a pochi mazze 400 riesce che sono arrivando poco solo uno sotto dove sei bau bau hanno cominciato siamo prima gli amici e fini ma è sopra qui dietro va dietro di mezzo gente da vediamo i raga bianco porto vincenzo isi 1 1 sulla strada sulla strada vinciamo e sparo io 241 parola un'inizio a sinistra sua axi sì 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 che vedo che rientrano dove cazzo sono siamo 3 v1 v1 30 10 30 8 che ho fatto porto paura un biau mia un biau mia un biau ma mia il carletto è morto per un biau no cazzo no 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 20 e rincesso non non morire se non esserlo chissero restano mi rompo il culo come sei non voglio fare ma non so dove sei sopra 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 niente non mi fai di dare resta resta lo posso già tirando su no niente ragazzi pensi pensi andate in sé per rivedere il medaglione per sbaglio questo perché mi hai detto di venire sua ma ci metti 18 ore che vuol dire ragione che lei nel senso c'è la mette in secondo mare stato vabbè cina 1 v1 mio mio ho date cecchini vincenzo non lo vedo credo che sei dietro di te vince no non lo so ma l'ho visto che spostava forte prima si sta dietro quando è passato prima attaccati bene che ce la fai mio mio c'hai 21 bilde vince ce la fai spruzzino ma quanta vita avevo che m'haruciso no 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 la c KO aẫnà yah me li happy ma adesso proprio fenomeno figa questo perché uso nel cronus guardano in coincidenza usare la consola coincidenza lei pensa che stesse utilizzando il cronus del genere merda vincenzone ernestazzo ci vediamo domani alla prossima ciao ragazzi ciao ciao